Carlo all'Inter, dico per i tifosi è anche più bello. La questione di sostegno sociale, il mercato è aperto e la mia squadra fa quello che deve fare. E per Morata invece Allegri lo rivolrebbe, se non avviare? Nessuno? Lavorate per portarvi di nuovo alla Juve. Com'è? Lavorate per portarvi di nuovo alla Juve. Grazie.